Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4 nuove stelle. Torniamo in compagnia della nostra Jennifer, ormai stella a tre stelle e manca poco 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 per arrivare finalmente alla quarta stella. Allora, dove siamo e cosa stiamo facendo? Allora, l'abbiamo lasciata nello scorso episodio che dopo aver vinto un favoloso premio delle stelle ha avuto un bellissimo ingaggio come Cowgirl in salsa fantascientifica, quindi abbiamo insomma girato un film un po' strano, un po' particolare e abbiamo già ottenuto un nuovo ingaggio che si terrà il giovedì alle ore 9, che si chiama Torneo d'Onore e dovrebbe essere un qualcosa di medievaleggiante, no? In generale. Quindi le ho già fatto fare tutti gli incarichi del lavoro, doveva esercitarsi nelle scene drammatiche, quindi le ho semplicemente fatto fare un monologo drammatico, anzi un paio per completare l'incarico, le ho fatto sviluppare l'abilità di recitazione e le ho fatto sviluppare anche l'abilità di carisma e le ho portato il carisma tra l'altro a livello 8, ecco qui. Quindi abbiamo fatto tutto, siamo a mercoledì, quindi lei come vedete sta benissimo, sta benissimo e abbiamo la giornata libera insomma prima di andare a svolgere l'incarico che comincerà l'indomani mattina, quindi stiamo andando bene, nello scorso episodio abbiamo raggiunto anche il livello massimo della carriera, quindi abbiamo massimizzato la carriera e ci manca per completare l'ultima pietra miliare dell'aspirazione attrice magistrale, collocando la perstrella della celebrità nel boulevard delle celebrità, cosa che per fare dobbiamo raggiungere, abbiamo visto, il livello 5 di celebrità, quindi ancora c'è un po' di strada da fare. E tutti i soldi che abbiamo guadagnati li ho spesi per sistemare un altro po' la casa, quindi vi faccio vedere. Allora fondamentalmente ho finito di sistemare la cabina armadio, quindi adesso a questo aspetto qui, si accede da questa porta a vetri, quindi si entra, qui abbiamo tutte le mille e mille paia di scarpe, anche di qua scarpiere e questo guardaroba, poi con questo bello specchio con la piattaforma per cambiare l'abbigliamento, e qui ho messo anche questa zona per il trucco e parrucco con questo bello specchio da camerino, diciamo. Quindi ho fatto insomma un po' una cabina armadio da attrice e sto, come vedete, insomma un po' trasformando anche il gusto di Jennifer, che va sempre più verso l'oro e verso, insomma, come dire, lo stile un po' barocco, diciamo così, un po' tendente al kitsch, che caratterizza un po' gli oggetti più lussuosi dell'espansione di nuove stelle. Quindi piano piano, insomma, la nostra Jennifer sta avendo un'evoluzione anche nel gusto dell'arrendamento, via via che abbiamo più soldi, e le ho aggiunto anche in camera da letto la postazione per il trucco con appunto questa sedia, che, diciamo, si attesta intorno a quel tipo di gusto di cui vi parlavo, cosa che si vede, insomma, anche qui nell'arredo del bagno che avevamo completato la scorsa volta. E niente, poi ho rifinito i soldi un'altra volta, ragazzi, per fare questa cosa qui. Ah, sì, e poi ho aggiunto questo poster qui, questo invece, come ricordo, di quando abbiamo fatto l'interpretazione di una poliziotta. E poi, un'altra cosa molto utile che ho fatto, avendo con l'aspirazione guadagnato più di 5.000 punti aspirazione, ho sbloccato questo premio qui, che è molto utile, che penso comincerò a utilizzare anche nei vari gameplay, nei momenti in cui potrò farlo. Ho sbloccato l'albero del denaro, perché effettivamente servono 5.000 punti premio di aspirazione, quindi l'ho sbloccato e l'ho piantato, in modo che almeno poi cominciamo a guadagnare, insomma, i bei soldoni per finire di sistemare la casa e poi, appunto, comprarci finalmente anche la villa nei pinnacoli, che è, appunto, l'obiettivo finale della nostra Jennifer. Quindi, eccolo qui, deve ancora germogliare, però l'albero del denaro potrà esserci, appunto, poi molto, molto utile. Quindi, però, per ora siamo un pochino a terra con i soldi, tanto per cambiare. Quindi, niente, gli interni ora sono effettivamente finiti della casa, magari aggiungerò ancora qualche decorazione, qualche poster riguardante le sue interpretazioni, devo mettere qualche pianta qua e là per finire di decorare, tipo qui qualche soprammobile, però di base abbiamo finito, quindi poi c'è da fare un po' il recintino qui intorno, mettere un po' di cose nel giardino, ma di base, insomma, ci siamo quasi, eh, con la casa di Jennifer. E poi, come vi dicevo, visto che, appunto, la nostra Jennifer deve avere una evoluzione, l'ha avuta anche nel suo abbigliamento. Infatti, ora andiamo subito nel CAS e vi faccio vedere, appunto, i cambi di look che ho fatto anche a Jennifer. Eccola qua, perché, appunto, le ho tolto un pochino quel look acqua e sapone, diciamo, che aveva all'inizio con la coda di cavallo, il maglione, eccetera, anche perché ora è la stagione primaverile, ci avviamo verso l'estate e comincerà a fare caldino. Quindi, comunque, le ho anche adattato il look verso la stagione che si va a fare più caldo, anche perché abbiamo visto che a Del Sol Valley c'è sempre il sole e fa sempre caldo. Quindi, in pratica, le ho messo come abito quotidiano principale questo, che era il suo, inizialmente, il secondo abito quotidiano per quando faceva l'incontro con i fan. Adesso è praticamente il suo look ufficiale e anche ha tolto la coda con la frangetta ed adesso tiene, insomma, i capelli in più in questa maniera sciccosa, diciamo. Quindi questo è l'abito quotidiano numero uno e come secondo gli ho aggiunto questo, che è molto da diva, insomma, anche questo. Quindi sta prendendo un pochino più il look proprio da star. Si dà un tono la nostra Jennifer. Poi, l'abito formale andava benissimo. Questo per la serata degli Oscar gliel'ho ottenuto va già benissimo da diva. Poi, come abiti sportivi, anche gli ho lasciato questi, tanto andavano benissimo. Da notte, sempre questo. Le ho cambiato i capelli. Se vi ricordate, prima aveva frangetta e capello lungo. Adesso, invece, quando sono sciolti, le stanno così. Quindi, insomma, ho un pochino tolto quella frangettina che aveva prima e adesso li porta un pochino più col ciuffo così laterale, un po' più voluminosi. Poi, l'abito da festa. L'abito da festa, allora, questo è quello che già aveva, però anche qui le ho cambiato il taglio dei capelli. Diciamo, prima aveva qui sempre frangetta e codina a sua solita. Adesso li porta così più tirati su. Le ho aggiunto anche una collana. E come secondo abito da festa, le ho messo questo, con questo bel collarino, con questo look un po' più particolare. E, va bene, questo era il costume da bagno, glielo ho tenuto perché andava già benissimo così. Abito per il clima caldo, invece, è questo. Quindi glielo ho cambiato perché quelli di prima erano molto più tranquilloni. E, appunto, anche qui le ho messo i capelli tirati su in questa maniera. E l'abito per il clima freddo andava benissimo. Questo glielo ho lasciato. Quindi, questo è il nuovo cambio di look della nostra Jennifer che adesso, insomma, deve adattarsi agli standard dello starlet più importante. Quindi, torniamo in modalità vivi. Ok, quindi, abbiamo la giornata libera, come vi dicevo. Quindi, diciamo che Jennifer adesso, come dire, sta raggiungendo i suoi obiettivi, no? Lei è sempre stata molto concentrata sulla carriera e, diciamo, ha sempre dato poco spazio alle relazioni interpersonali, no? Sì, ogni tanto interagiva, faceva, però con legami, diciamo, di solito sempre strettamente legati al lavoro, più che altro comunque per accaparrarsi fama. Però adesso, insomma, stiamo abbastanza ai vertici. Possiamo un attimo rilassarci. anche dovremmo cominciare a coltivare una cerchia di amicizie anche di un certo livello per, come dire, aumentare ancora di più la fama perché un altro modo per aumentarla è comunque circondarsi di stelle e visto che adesso non dobbiamo più rapportarci come delle fan timorose ma possiamo, insomma, rapportarci da pari è giunto il momento, appunto, di allargare la cerchia anche perché con il fatto di poter contattare le agenzie di pubblica relazione di poter intrufolarsi nelle feste dei VIP abbiamo, insomma, anche fatto delle amicizie di un certo livello abbiamo conosciuto già un po' di VIP ho fatto una cosa ovvero Jennifer ha creato un club di cui, ovviamente, è la leader con la crema della crema, ragazzi ora vi faccio vedere proprio i dettagli del club allora, il club si chiama VIP ovviamente, Very Important People e la descrizione è ritrovo esclusivo per celebrità di alto livello il ritrovo l'ho messo all'Orchidea Go Go perché, appunto, mi piace il fatto che abbia come caratteristica Orchidea Go Go è un locale emergente dove, appunto, alle star insomma, piace andare come come, appunto, locale che si freggiano di aver scoperto, no? quindi è un localino magari più appartato più in, più esclusivo e che ha quel salottino privato che a me piace tanto quindi mi sembrava un luogo perfetto per radunarsi in quel privelli particolare si entra solo su invito e i requisiti sono il livello di celebrità a almeno tre stelle quindi c'è tre stelle, quattro stelle e cinque stelle le attività del club ora le andiamo a vedere però prima vi faccio vedere i membri allora, ho invitato Ria che era quella superstar planetaria che abbiamo appunto conosciuto grazie proprio all'agenzia di pubbliche relazioni che ci ha fatto intrufolare alla sua festa quindi è una star a cinque stelle Thorne Bailey perché anche lui l'abbiamo conosciuto sempre tramite l'agenzia intrufolandoci alla sua festa e poi mi ha consentito di mettere anche Judith Ward perché comunque ci abbiamo ci abbiamo chiacchierato in occasione dei premi delle stelle visto che adesso siamo una celebrità di un certo livello si è messa proprio a chiacchierare con noi amabilmente e poi ho messo anche Brittany Cho perché anche con lei siamo riusciti a chiacchierare quindi notate che questi erano soggetti che quando gli chiedevamo gli autografi e altre cose ci guardavano nell'alto e in basso e adesso invece fanno parte del nostro club esclusivo e possiamo parlarci come delle persone normalissime e poi ho inserito Dustin Broke che in questo momento in questa versione qui non riconoscerete perché gli ho fatto un cambio di look Dustin Broke in buona sostanza è un VIP che non è presente come VIP nel boulevard delle celebrità è un po' come Holly Alto sono dei VIP presenti fissi cioè non generati casualmente ma sono proprio dei VIP definiti dal gioco che però non abitano nelle case non sono presenti nello scenario però sono abbastanza affermati quindi lui mentre vi sto parlando voi state vedendo in versione speed il cambio di look che gli ho fatto quindi potete vedere come era lui originariamente quindi penso che l'avrete riconosciuto perché l'abbiamo spesso visto in giro nello scenario di base sono andata a spulciare un po' la sua sono andata a spulciare un pochino la sua personalità insomma il suo quadro personale è un tipetto molto interessante avremo modo di conoscerlo meglio è un uomo d'affari che sostanzialmente deduco dal ho dedotto io dal fatto che ha l'abilità di produzione mediale il fatto che andava sempre in giro con queste cuffiette in testa si occupa di produzione di video musicali fondamentalmente quindi è un self made man è una figura di serie B quindi una star a tre stelle come noi e insomma poi andando a vedere il suo quadro della celebrità ha degli aspetti molto interessanti ma che avremo modo poi di conoscere meglio più avanti perché ho messo gli occhi su Dustin che come vedete dal appunto come avrete visto dal cambio di look si è sottoposto a una serie di ritocchini chirurgici come dire di piccoli miglioramenti con le magie della chirurgia plastica diciamo così e con un cambio di look radicale che come vedete ha preso avvirato sul un po' sul sul ricco tendente al tamaro se vogliamo ha voluto un pochino dargli questo questo tipo di personalità perché comunque è coerente sui suoi con i suoi tratti caratteriali che andremo a conoscere secondo me gli ho voluto dare un pochino questo taglio e Dustin l'ho trovato interessante perché potrebbe essere un buon partito per la nostra Jennifer perché insomma ve l'avevo detto me l'avete anche richiesto più volte ve l'avevo detto che più avanti una volta che la nostra Jennifer si sarebbe un attimino anche rilassata sistemata con la carriera insomma avrebbe avuto anche lei la sua comunque dose di romanticismo e quindi Dustin l'ho un pochino inquadrato come un un papabile partito per la nostra Jennifer mi avete suggerito anche Thor Bailey ma ragazzi Thor Bailey è sposato con con Octavia Moon hanno anche un figlio sinceramente mi mi dispiacerebbe comunque fare di Jennifer una fascia famiglia insomma anche perché comunque ha una reputazione buona non mi andava di fare un qualcosa di troppo drammatico quindi volevo trovarli una persona comunque single disponibile piacente e insomma poi avremmo modo di appunto conoscere meglio il nostro il nostro Dustin che per il momento non è presente nello scenario non ha una casa non ha nulla insomma così però si aggira come star catturando comunque gli scatti dei paparazzi lo vediamo di tanto in tanto e quindi niente di base siamo sei sei membri di cui due a quattro stelle quindi abbiamo Brittany e Thorn due a tre stelle che siamo noi con Jennifer e Dustin e due rappresentanti delle cinque stelle con appunto questa Ria Trivedi VIP generata casualmente dal gioco e che abbiamo conosciuto e con la celeberrima Judith Ward le attività del club che ho messo quindi sono allora non sono tutti attori quindi loro eh allora Ria non so bene cosa faccia Ria dovremmo approfondire la sua professione credo che forse sia un'attrice anche lei Thorne abbiamo visto che non è un attore Thorne è più un intrattenitore un presentatore Judith è un'attrice Brittany è una comica e Dustin appunto è un un imprenditore fondamentalmente quindi sono tutte insomma situazioni diverse quindi è proprio un ritrovo di VIP non è tutto improntato alla recitazione però siccome ci può essere utile siccome insomma ci sono degli attori nel gruppo ho messo tra le attività questa qui ovvero esegui numeri di recitazione perché magari insomma con Judith ci possiamo cimentare poi ho messo di eseguire interazioni amichevoli ho messo ballare e ho messo bere bevande da bar insomma per il momento come attività abbastanza generiche sono insomma mi sembrano attività da ritrovo conviviale da da VIP e quindi ho fondato un po' questo club quindi io direi che adesso ce l'andiamo proprio a vivere quindi iniziamo un raduno visto che insomma abbiamo la giornata libera e ce la godiamo un pochino in questo modo vediamo se riusciamo stando in mezzo alle celebrità a guadagnare un altro pochino di fama e nel frattempo io ho continuato a contattare l'agenzia per tirare sulla reputazione buona quindi stiamo quasi raggiungendo una seconda tacchettina perché poi vediamo se magari ci può essere qualcosa di interessante da spendere per spendere i punti di fama poi più avanti quindi io direi che adesso possiamo anche quindi iniziare il raduno e ci raduniamo all'archidee a Google cos'è che ci dice una celebrità sta per fare una rara apparizione a lunch bar quindi è il momento di fare del tuo meglio se non altro è il meglio del tuo peggio oddio abbiamo l'abito uguale a Judith Ward ops cioè quello il secondo abito è molto simile al suo effettivamente va bene e il raduno del club VIP è iniziato va bene perfetto quindi ci siamo tutti quindi dai allora magari ci cambiamo anche d'abito ci mettiamo anche qualcosa di un po' più ancora più carino vedete è proprio identico a quello di Judith Ward che gaff sarebbe se ci vestissimo uguale allora no magari mettiamoci un abito da festa anche dai mettiamoci questo nuovo sfoggiamo un abito nuovo da festa così tanto allora e ce ne andiamo ce ne andiamo subito qui dai andiamo qui tutti insieme e poi facciamo tutti i vari convenevoli del caso godiamoci la passerella di quando entrano qui perché sono troppo belli quando fanno tutti gli schifiltosi quindi mi rivolgo proprio a vedere mentre entro uno a uno ecco qua è arrivato anche il bodyguard ed eccoli qui che fanno la loro entrata in tutto il loro splendore eccoli qua guardate è arrivato subito proprio Dustin per l'appunto vedete adesso insomma è un bel tipetto ha dei gusti un po' un po' particolari nel vestire però insomma non è non è male quindi dai ci raduniamo tutti qui magari a ballare un po' insieme e nel frattempo approfittiamo per fare due chiacchiere quindi chiediamo della sua giornata ragazzi adesso possiamo chiacchierare come se nulla fosse parliamo del club VIP con tutte queste celebrità aduliamolo lui insomma visto che comunque sarà un nostro futuro interesse romantico poi vediamo chiediamo della carriera a lei così scopriamo cosa fa ok che onore Judith Ward attribuisce il successo del club VIP al nostro glorioso leader Jennifer Nolan molto bene dov'è Thorne Bailey? ah è qui a farsi fotografare ma che ve lo dico a fare ragazzi ah Ria è disoccupata e quindi perché è famosa questa donna non si sa così approfittiamo approfittiamo insomma per stringere un po' di amicizia ok intanto abbiamo anche raggiunto il livello dell'abilità di vallo e appunto socializziamo con le stelle più alte perché in teoria questo dovrebbe darci proprio fama in più in teoria guardate ah no ok ci sono i paparazzi c'era lui che stava cercando di fotografarci da qui ok dai veniamo un pochino qui a posare anche noi per i paparazzi dai posiamo un po' per le foto e vediamo se ci fanno un po' di foto anche a noi ok ora è arrivata anche Judith Ward guardate che bello stare nel mezzo del successo e della fama ecco qua sono tutti pazzi di noi guardate tutti che si fanno i selfie con noi dietro che dite firmiamo anche qualche autografo dai firmiamo anche un po' di autografi concediamo anche qualche selfie con gli ammiratori vedete bellissimo loro sono felicissimi ecco qua sguazziamo proprio in mezzo ai nostri fan allora dai l'avevo visto ora lo sta facendo di sua spontaneità cosa sta facendo ah si ok gli sta chiedendo gliel'ha chiesto lei in sua sponte di fare le foto non dobbiamo neanche più fargliele fare noi ce lo chiedono loro perfetto va bene dai adesso andiamo a berci una cosa tutti insieme al bar dai offriamo un giro per tutti le bevande di gruppo che anche questo ci dà fama tang e zin dai un giro per tutti e questo ci ha dato fama eccoli qua tutti che arrivano e insomma facciamo un po' ad attività di club facciamo dai chiediamo della carriera chiediamogli come va eccoli qua guardate che belli insomma siamo in mezzo alle star io direi di immortalare anche il momento perché insomma quando ci ricapita ok e qui che ci dice icona riconosciuta per il tratto egocentrico molto bene e comunque Jennifer è molto a suo agio insieme ai VIP perfetto lui mi sa di paparazzo infatti dai andiamo a posare per i paparazzi ecco qui ci stanno fotografando i paparazzi stanno impazzendo con tutti questi VIP radunati tutti insieme e questo insomma ci dovrebbe dare un bel po' di fama in teoria infatti ci sta dando fama perfetto va bene dai in che ore sono allora vediamo di fare che altre attività le abbiamo fatte più o meno tutte le attività del club comunque dai andiamo un altro pochino su a radunarci e a ballare nel nostro club esclusivo quindi andiamo un altro pochino a ballare insieme qui e guardate subito Dustin che ci viene dietro eh io vedo del potenziale vedo del potenziale dai approfondiamo un pochino anche la relazione con lui dai aduniamo insomma dobbiamo cominciare a coltivare un pochino questa questa relazione sta aumentando la reputazione buona io ancora non ho capito quali sono le interazioni per tirare sulla reputazione buona ogni tanto faccio cose a caso e vedo che me la tira sopra va bene e guardate qui come ci si diverte in questo club uh sincronizzatissime loro due guardate come ballano molto bene impara a conoscere ecco è smanettone infatti perché comunque lui appunto si occupa di produzione mediale di video musicali quindi se la cava è una testa calda quindi come vedete insomma anche lui c'è il suo bel caratterino e ha conosciuto anche l'ultimo tratto è pigro è un pigrone va bene va bene io direi anche di buttargliela lì intanto un chiedi se è single così intanto per sondare il terreno è single ovviamente e dai visto che ci siamo io direi che possiamo anche ah non mi fa ancora scambiare i numeri di telefono va bene però facciamo un timido flirt intanto vediamo se si attecchisce ci proviamo un pochino abbiamo sbloccato la seconda la seconda barra della reputazione buona siamo a reputazione eccezionale molto bene ancora non ho capito come faccio a fare queste cose però va bene tutti adorano partecipare agli eventi sociali organizzati da Jennifer quindi sarà più facile ottenere premi per il livello d'oro durante uno di essi interessante in aggiunta al telefono avrà opportunità entusiasmanti come inviti a feste di beneficenza offerte di lavoro per intraprendere nuove carriere con promozioni immediate e molto altro se Jennifer se Jennifer dovesse essere interessata ad avere appuntamenti galanti ecco questo ci interessa una reputazione eccezionale può tornare utile anche a tale scopo ora è possibile che le presentazioni romantiche consentano un inizio più passionale della relazione interessante i bambini non ricevono la serie completa dei vantaggi associati alla loro reputazione finché non diventano adolescenti va bene bene interessante dai proviamo a far attecchire questo flirt volevo solo scambiare ecco i numeri di telefono quindi in teoria dovremmo avere più successo in teoria vediamo se lui concorda sulla cosa sì mi sembra sì 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 mi sembra interessato il ragazzo dai facciamo attecchire questo flirt qui è da oggi si sta facendo sera tutto il giorno a scatenarci però dobbiamo andare perché domattina nel presto abbiamo poi un ingaggio quindi non possiamo pergiversare troppo ok abbiamo sbloccato la barra del flirt adesso il nostro Dustin è un interesse romantico va bene guardate lei io devo ancora capire come si fa a fare questa cosa in tutto questo non so se è qualcosa che si sblocca al quarto livello questa cosa che loro tipo si auto acclamano non lo so comunque dai direi basta così guardate adesso ci ha dato il simbolo dell'angioletto la reputazione va bene non male perché poi alla fine sono quattro caselline per la reputazione buona quindi insomma siamo a buon punto anche con questa comunque dai direi di terminare il raduno abbiamo anche raccimolato qualche punticino del club non male terminiamo il raduno vediamo se possiamo sbloccare qualche vantaggio utile allora io effettivamente club popolare questo mi sembra buono volendo potremmo aggiungere anche un nuovo membro del club però potremmo anche mettere qualche atmosfera del club o non lo so allora io intanto metterei come prima cosa questo club popolare poi più avanti quando raccimoliamo un altro po' di punti vediamo se possiamo sbloccare qualche altro vantaggio che può esserci che può esserci utile dai andiamo a casa adesso eccoci qua allora tiro su un pochino i suoi bisogni che tra l'altro starebbe anche abbastanza bene effettivamente e direi che ci vediamo in mattinata per andare al lavoro allora siamo tornati al lavoro dunque vi rileggo brevemente la descrizione dell'ingaggio di oggi così rifacciamo il punto allora si chiama torneo d'onore il regno di Advorton stava attraversando un periodo difficile ed era pronto a giurare lealtà a un prode cavaliere disposto a guidarlo ma il popolo di Advorton era orgoglioso e non si sarebbe mai sottomesso a un cavaliere che non avesse onorato le virtù cavalleresche fu così indetto un torneo d'onore per dimostrare il valore di qualsiasi cavaliere desideroso di salire al trono quindi medioevo sicuramente allora vediamo un pochino il set sembra molto interessante bene 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 un po' sullo stile forse del trono di spade se vogliamo ok quindi si vedremo finalmente questa specie di bracere va bene bello sembra molto molto carino allora vediamo cosa dobbiamo fare allora dobbiamo sempre fare le stesse cose quindi al solito ragazzi vado io poi vediamo il look e poi andiamo a vedere l'interpretazione della nostra della nostra stella e vediamo oggi se completato l'incarico riusciamo a guadagnare la quarta stellina ok allora questa è l'acconciatura trucco e parrucco quindi ci hanno fatto questa tutta con le trecce non so non mi aspettavo una pettinatura del genere devo dirvi la verità anche perché vi faccio vedere la nostra coprotagonista come è vestita mi piace molto come è vestita lei con questa acconciatura e con questo vestito comunque la nostra truccatrice sta diventando più brava perché adesso ha azzeccato alla prima sia la pettinatura che il trucco quindi andiamo a vedere adesso il costume wow che bel vestito accidenti sì sì mi piace non mi convince tanto la pettinatura devo dirvi la verità non è che mi faccia proprio impazzire però ok siamo pronti allora dobbiamo che bello questa è la sala del trono e qui c'è una sorta di bracere ok questa sarebbe tipo una terrazza fuori dove si vede poi lo sfondo del palazzo fuori no vabbè bellissimo molto bello anche questo set devo dire e anche di qua guardate le quinte qua dietro bello particolare allora dobbiamo interpretare la scena di un urlo dobbiamo interpretare la scena di una bevuta in compagnia dobbiamo interpretare la scena del racconto di una storia ok cominciamo con urla parole proibite ovviamente facciamo sempre tutto rischioso ragazzi tanto ormai siamo delle stelle megagalattiche quindi insomma abbiamo il massimo livello di recitazione di tutto di carriera mamma mia che attrice consumata come sempre volano parole grosse ragazzi ok uuuu duello alla spada bello questo è qui? si 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 questo lo facciamo subito sicuramente si quindi lui è il nostro il nostro rivale della situazione va bene azione wow mamma mia che bello è troppo bella questa scena bellissima che figa ragazzi anche con l'abito da dama a fare il duello di spade bellissima giustamente è un torneo d'onore quindi il duello ci voleva ok poi andiamo alla prossima bevi in compagnia ok salute si poi ragazzi cambiano i vestiti ma poi alla fine le dinamiche sono quelle effettivamente anche il duello con le spade le dinamiche erano simili a quelle di quando le abbiamo viste con le spade laser quindi cambiano poi gli scenari ma le azioni più o meno sono quelle poi dobbiamo interpretare la scena di un bacio e il racconto di una storia quindi qui abbiamo la scena del bacio dai ovviamente baceremo lei azione e con la neve mamma mia bellissimo bello bello con la neve sullo sfondo mi è piaciuto qui così sulla terrazza ambientazione romantica e poi dobbiamo raccontare una storia eccola qui la nostra narratrice qui è lei ed è così ragazzi che la storia ebbe un lieto fine bene finito ah dobbiamo interpretare la scena di morte fra un po' scade ah no vabbè la 19 finisce l'ingaggio e lei è tesa però dobbiamo farla per forza perché non so se facciamo a tempo poi a interpretarla morta avvelenata eeeh la come muori te Jennifer non muore nessuno comunque mi sembra sia andata bene ok allora 7289 simoleon ok non abbiamo guadagnato proprio vabbè in proporzione tanto ma potevamo guadagnare di più forse qualcosina quando era tesa c'è stata qualche sbavatura forse però comunque abbiamo guadagnato tanta fama va bene ok vediamo che ci dice oh abbiamo raggiunto la quarta stellina adesso siamo una celebrità vera e propria il modo di camminare di parlare di apparire Jennifer è una celebrità vera e propria ora per la gente comune è un evento sensazionale intravederla in giro per strada quando è circondata dai suoi ammiratori adoranti può incitarli all'applauso ah ecco era questa l'interazione allora per mandarli letteralmente in delirio Jennifer è inoltre riuscita ad assumere l'aspetto tipico di un personaggio pubblico in che modo è letteralmente una stella splendente e ha un nuovo stile di camminata solo alla portata delle vere celebrità per qualsiasi modifica è sufficiente cliccare su Jennifer ah quindi abbiamo ancora di più la camminata quella cioè adesso sbrillucichiamo fondamentalmente fatemi capire sì abbiamo le stelline adesso è una bellissima stella ambulante in tutti i sensi la nostra Jennifer va bene dunque fatemi andare subito a vedere i vantaggi della fama quindi abbiamo due punti di fama vediamo un pochino cosa possiamo adesso sbloccare allora io mi ero letta un pochino già i vantaggi successivi e vi dirò questa filiera qui ora come ora per noi è meno interessante perché questo in pratica questo vantaggio consente di avere da questo avvio agevolato delle carriere e promozioni semplificate quindi praticamente fa godere di vantaggi sul posto di lavoro quindi quando intraprende la carriera può essere assunta con una qualifica iniziale più prestigiosa ha un maggiore rendimento lavorativo e promozioni più rapide però vero è che noi siamo già al massimo della carriera quindi non so se magari ci danno più soldi ma non credo e poi quello dopo ci darebbe vita facile dove ci dà promozioni semplificate paga più alta e giornate lavorative positive potrebbe essere interessante però mi sembrava più interessante ora questa filiera qui della popolarità perché questo ci rende favorito degli ammiratori quindi come celebrità Jennifer si accattiverà un esercito degli ammiratori che saranno a sua completa disposizione ogni volta che vorrà potrà chiedere a qualsiasi ammiratore di accrescere al massimo la fama o la reputazione di un membro dell'unità familiare a sua scelta per divertimento potrà anche mettersi in posa per impressionare gli ammiratori nei paraggi inducendogli a svenire mi sembra questa più divertente anche perché ci fa lavorare di più sulla fama e poi questa successiva subito migliori amici in pratica ci dà subito vantaggi nelle relazioni interpersonali i sim non possono fare a meno di sentirsi attratti dalla personalità affascinante di Jennifer salutare un sim con un sorriso radioso un rapido scambio di battute sufficiente per farlo sentire subito a suo agio e quindi grazie a fama crescente e atteggiamento disinvolto Jennifer sarà facile diventare all'istante amico piccioncino di qualsiasi sim estraneo è interessante soprattutto considerato che ora vogliamo lavorare più nella parte delle relazioni interpersonali della nostra Jennifer quindi io vi dirò mi butterei su queste due e poi l'ultima è fighissima perché praticamente abbiamo un entourage a disposizione quindi che si tratta di amici intimi o di conoscenti ogni celebrità ha bisogno di un entourage quindi come super star planetaria Jennifer può scegliere uno per uno i membri della propria cerchia ristretta e chiamarli a raccolta con uno schiocco delle dita e quindi c'è proprio un clan si ostenta l'abito scelto da lei non perderà occasione di spalleggiarla abbiamo proprio una troupe che ci segue sempre e dice i membri del clan sono disponibili per supporto emotivo sentire una barzelletta di essere confortata o essere coperta di lodi è divertente questa quindi io vi dirò mi butterei adesso più su questo ramo qui poi non so con la reputazione buona potremmo anche sbloccare queste però questa per le cose in beneficenza più che altro questo comizio questa è utile perché il trattamento stellare quindi al massimo però della reputazione buona potremmo ricevere oggetti e servizi gratuiti quindi però io diciamo che per ora mi butterei su questo ramo qui poi eventualmente possiamo fare una depurazione della fama e quindi magari puoi sbloccare anche queste cose qui però per ora io mi butterei su queste su queste qui non abbiamo ancora sbloccato slot per le stravaganze quindi le ultime due si sbloccano con le 5 stelle interessante comunque io sbloccherei quindi favorito degli ammiratori così possiamo far svenire a comando gli ammiratori e subito migliori amici per appunto migliorare subito le relazioni con gli sconosciuti prenderei queste due ok quindi vediamo gli ingaggi che abbiamo per il lavoro oh allora c'è questa nuova i tesori di Arbyville questa è roba di pirati interessante quindi mi sa che mi butto su questa perché poi abbiamo di tetra di menti che anche questa la vorrò vedere la vedremo più avanti perché poi più o meno ora mi sembra che sono stanno ricorrendo un po' le stesse quindi ce ne sono alcune che ancora dobbiamo vedere quindi magari approfittiamo adesso per vederle quindi io volevo vedere questa qui sicuramente ora leggiamo la descrizione poi di tetra di menti perché questa è in abito vittoriano sicuro quindi la voglio vedere e poi dove alberga il cuore che invece è una sorta di IR insomma è ambientato nelle corsie d'ospedale quindi anche questa è una come dire una scenografia che ancora non abbiamo visto quindi diciamo che queste tre sicuramente le voglio vedere questa qui è ambientata nel far west quindi secondo me sarà simile a quello che abbiamo già visto quindi poi magari vediamo quindi sicuramente però queste tre avranno la priorità io vedrei questa dei tesori di Arbyville quindi i pirati della terra di Arbyville hanno intrapreso un'avventura spericolata per trovare la leggendaria Excalipagaia ok i dilli e peripezzi sono solo l'inizio di questo viaggio in mare aperto dai sì ci serve il livello 7 di forma fisica abbiamo l'ingaggio alle 9 ovviamente con i nostri vantaggi possiamo saltarci l'audizione e insomma la paga media sembra buona quindi dai prendiamo questo quindi dovremo sviluppare l'abilità fisica sviluppare l'amicizia con un coprotagonista esercitarci nelle scene d'azione insomma sempre un po' le solite le solite cosine e abbiamo insomma l'ingaggio domenica alle 9 va bene ragazzi allora io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui insomma abbiamo visto un bel po' di cose siamo adesso finalmente una celebrità a 4 stelle ah voglio fare una cosa insieme a voi subito che era un po' che stavo aspettando di fare voglio cambiare i tratti dell'otto allora questo lo lasciamo perché ci serve l'attività fisica togliamo per ora l'acustica grandiosa e voglio mettere assolutamente freggiare la casa del titolo di casa di celebrità ora ragazzi a 4 stelle io credo proprio che ce lo possiamo permettere questa residenza elencata tra le visite guidate alle case di celebrità e assicura un maggior guadagno di fama accesso riservato e stupore tra i visitatori accolti però attenzione coloro che vivono senza essere davvero famosi saranno considerati degli sbruffoni direi che 4 stelle è più che legittimo metano così vediamo insomma cosa succede anche con questo tratto lo vedremo insomma nel prossimo nel prossimo episodio comunque come dicevo per questo episodio direi che insomma ci possiamo anche fermare qui abbiamo visto il nostro nuovo club esclusivo con le celebrità vedremo di approfondire questo inizio di relazione romantica col nostro Dustin in piena forma e abbiamo visto insomma anche questo ingaggio ambientato nel medioevo insomma una sorta di trono di spade fantasy non lo so se vogliamo molto carino molto interessante e quindi stiamo andando veramente alla grande con la celebrità sia con la reputazione che con proprio con i punti di celebrità quindi insomma i pinnacoli sono sempre più vicini ragazzi comunque io per questo episodio mi fermo qui spero che vi sia piaciuto come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un piace nei commenti vi invito come sempre se volete rimanere aggiornati sulle nuove uscite della serie a mettere attivare la campanellina delle delle notifiche e a seguirmi su instagram se avete l'account perché anche lì vi do sempre le novità sulle ultime uscite sul canale io per questo episodio mi fermo qui e noi quindi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti